Buongiorno da Radio Piave Belluno in Blu per la rassegna stampa di oggi 29 gennaio con la neve anche a Belluno da dove stiamo trasmettendo e con la neve vediamo che si viene a creare la preoccupazione per le valanghe quanto vi sto mostrando a video naturalmente per chi ci sta seguendo su facebook ci parla dei sindaci convocati dal prefetto domani il vertice con i comuni per valutare il rischio questa è la prima pagina del gazzettino ora la vediamo in terra anche con gli altri argomenti di cui pure parleremo leggiamo come ci siano state delle difficoltà ma non grandissime infatti quanto viene a scrivere olivia bonetti con damiano tormen in una pagina che adesso andremo a vedere e quanto segue le previsioni parlavano di pochi centimetri ma il manto bianco che ieri ha coperto la provincia è andato ben oltre le aspettative in città siamo arrivati ai 15 centimetri e il record è toccato auronzo con 25 centimetri ma nonostante le previsioni avessero sottostimato il fenomeno non ci sono stati disagi sulle strade o incidenti conferiti andiamo quindi a vedere nelle pagine interne del gazzettino di belluno ed ecco qui quanto leggiamo con grande evidenza a proposito dei sindaci convocati in prefettura c'è un'intervista al prefetto francesco esposito che spiega di aver convocato i sindaci primi fra tutti quelli della gorrino per la riunione di coordinamento di mercoledì che si terrà a belluno come sto evidenziando a video e da questo articolo vado a leggere una domanda dell'intervistatrice olivia bonetti che ho già citato e la risposta del prefetto nonostante l'allerta per la neve come mai non è stato deciso di chiudere le scuole ieri mattina la risposta del prefetto esposito sia come merito che come metodo agiamo come abbiamo fatto per il 30 e 31 ottobre scorso in quel caso abbiamo avuto un'ottima capacità di previsione e per questo come metodo ci basiamo sul previsore arpav lui ci dà indicazioni su quello che accadrà e sulla base di quelle che saranno le previsioni ci muoviamo per oggi non c'erano i presupporti per chiudere c'è anche un affondo sul meteo che ci può interessare a oggi lo scenario che per mercoledì ci dovrebbero essere nevicate come quella che abbiamo avuto oggi cioè ieri per venerdì e sabato benché siamo lontani e mancano cinque giorni avendo visto che potrebbe esserci qualcosa di più serio ci siamo determinati a convocare una riunione in prefettura ecco il meteo quindi che ci interessa e che riguarda tutta la provincia leggo come il record ad auronzo 25 centimetri questo l'avevamo già visto in prima pagina ma il meteo non è solo quello attuale con la previsione delle nevicate bensì anche quello accaduto nel 29 ottobre scorso a questo punto io vorrei provare con voi a notare quanto il corriere del veneto sulla pagina che ora mostro anche sul monitor ci parla di come ci siano i primi tir carichi di tronchi schiantati che sono partiti anche dalla valvis dende oltre che dall'altopiano di asiago vediamo un po quanto ci scrive martina zambon e ci parla soprattutto dei sindaci dell'altopiano di asiago alle prese con milioni di metri cubi di alberi schiantati a suodo da sgomberare e vendere è prevalsa la linea dello sgombero la dichiarazione è di emanuele munari sindaco di gallio e presidente dell'unione montana dell'altopiano è prevalsa la linea dello sgombero e della vendita immediata scusate del legnatico caduto l'alternativa sarebbe stata troppo rischiosa a catastare a spese nostre montagne di tronchi nella speranza di venderli in un secondo momento possibilmente a un prezzo di mercato più vantaggioso nei giorni delle polemiche prosegue l'articolo con la regione concentrate soprattutto nella gordino sul chi deve fare cosa i comuni si sono già rimboccati le maniche ancora martina zambon ci dice che le operazioni nel bellunese sono oggettivamente molto più complesse a partire dalla morfologia del territorio che include persino zone impossibili da raggiungere pure in valvisdende santo stefano e san pietro di cadore c'è già un gran via vai di camion carichi di leniami le due sindache che come i sindaci dell'altopiano hanno chiesto espressamente di essere nominate soggetti attuatori per poter sveltire le procedure e per ricevere direttamente i sospirati aiuti governativi corriere del veneto quindi moderatamente ottimista sullo sgombero diamo un'occhiata anche alla prima pagina con la foto di piazza dei martiri a belluno la montagna si sveglia sotto la neve c'è un aggettivo che usa davide piol poi nella pagina dedicata al bellunese una nevicata schizofrenica perché mai perché l'intensità è stata molto diversa da paese a paese questo il giudizio del corriere del veneto sulla nevicata ma di meteo e delle conseguenze del 29 ottobre scorso si viene a parlare anche in molti altri luoghi del giornale di oggi dei giornali di oggi per esempio andiamo a vedere quanto il corriere delle alpi propone in più di una pagina in realtà che incontreremo dopo aver girato le pagine relative alle cronache alle cronache nazionali alle cronache regionali ed eccoci come a pagina 14 del corriere delle alpi si intervisti giampaolo bottacin assessore regionale alla protezione civile il quale dichiara i comuni riceveranno a giorni 150 milioni di euro dal governo la somma comprende i 40 milioni per la pulizia dei boschi francesco dal mass viene a firmare il pezzo ne leggo qualche riga che approfondisce i dati che vi ho già fornito bottacin precisa che questi soldi saranno dirottati immediatamente ai sindaci nominati soggetti attuatori ovviamente a quelli che hanno presentato il piano di intervento bisognerà aspettare invece ancora qualche settimana per disporre di una gran parte forse addirittura un miliardo di quei 2,4 miliardi previsti nella manovra finanziaria per le opere di messa in sicurezza fonti romane molto accreditate danno per probabile uno stanziamento destinato al veneto tra i 900 milioni e il miliardo il resto sarebbe suddiviso tra le altre dieci regioni che hanno patito danni il 28 ottobre all'elenco potrebbe aggiungersi scrive ancora dal mass qualche altra realtà colpita da particolari calamità naturali nel 2018 leggo anche da questa pagina come da santo stefano a pieve di cadore prosegua il lavoro della neve le ditte specializzate forestali non si sono fermate essendo in una fase intensa molti i lotti di tronchi bonificati e già venduti sul mercato lascio alla vostra lettura il resto dell'articolo ci parla appunto della val bisdende di cui abbiamo già dato cenno nel corso di questa rassegna stampa ma c'è anche qualche polemica e riguarda quanto ha dichiarato il presidente della regione luca zaia che è stato intervistato da radio cortina di che si tratta beh leggerò solo una dichiarazione di zaia abbiamo 28 mila ettari di bosco a terra che non si ripuliscono con la bacchetta magica e tanto meno con le polemiche io fino dal primo giorno ho detto se ci sono i sindaci che vogliono fare i soggetti attuatori ovvero vogliono governarne il processo all'interno dei confini comunali ed essere loro i padroni del vapore ovviamente con le risorse che il commissario gira ce lo dicano lo hanno chiesto tutti i sindaci di asiago tutti i sindaci del cadore tutti i sindaci del comelico mentre due sindaci della gordino rocca pietro e livina lungo ci hanno detto di da loro una mano perché c'è troppa devastazione in ogni caso ci sono già state delle nomine ai primi cittadini dei comuni di pieve di cadore roana enigo san pietro di cadore santo stefano di cadore san tommaso gordino gallio asiago vodo di cadore borca cibiana e anche val di zoldo san vito di cadore rozzo selva di cadore sono stati nominati soggetti attuatori per quanto riguarda le operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti ci sono anche altri approfondimenti sull'argomento leggo per esempio a pagina 16 del corriere delle alpi come 22 siano i tecnici all'opera per fronteggiare l'emergenza vorrei però cambiare argomento molto ci sarebbe da leggere ma il tempo a mia disposizione non è poi molto e l'argomento è quello che riguarda il carcere di belluno una buona notizia la firma paola dallanese eccola oltre il 70 per cento dei detenuti impegnato in attività lavorative da dicembre grazie a fedon si realizzano pelli per occhiali contro i suicidi un piano di collaborazione con l'unità locale socio sanitaria con l'azienda sanitaria locale che dir si voglia qui paola dallanese ci da ragguaglio con un'intervista che la pone a tiziana paolini direttrice del carcere di come sia stato portato dal 60 al 75 per cento il gruppo di detenuti impegnati in attività lavorative un risultato importante che serve non solo a ridare dignità a queste persone ma anche ad aiutarle a mantenere le loro famiglie la realtà del carcere è una realtà su cui non va abbassata l'attenzione per un reinserimento attivo nella società e qui vorrei parlare a proposito di solidarietà anche di un fatto increscioso che come ricorderemo tutti ha riguardato la nostra città la morte di Giancarlo Bigi il clochar di Levego non è ancora stata fissata la data dei funerali come vediamo da quanto scrive Alessia Forzin sulla stessa pagina del Corriere delle Alpi ma i volontari della PAC accudiranno i cani che vivevano con Bigi il motivo del funerale rinviato leggo è perché la procura sta aspettando i risultati del DNA necessari per avere la certezza che l'uomo ritrovato sia proprio Giancarlo Bigi per dare il via libera alla celebrazione del funerale restiamo ancora sul Corriere delle Alpi ma brevemente andiamo a vedere quanto ci scrive ancora Francesco Dalmas e stiamo parlando di boschi ma in maniera più positiva si parla di un patrimonio unesco la regione avvia la procedura per il consiglio lo chiedono gli ambientalisti da 20 anni ora si apre uno spiraglio verifiche già avviate secondo Giampaolo Bottaccini abbiamo interpellato gli esperti eccoci ora quindi nelle ultime battute del nostro incontro e vorrei che le dedicassimo all'approfondimento del tema dello spopolamento c'è una iniziativa che ci viene descritta dal gazzettino e ci sto arrivando dopo aver sfogliato le prime pagine ecco qui sgravi fiscali e contributi contro lo spopolamento Damiano Tormen è la firma leggo qualche riga di questo pezzo dal gazzettino di Belluno Ronce, Tassei e Pian del Monte tornano alla carica studiano il modo di evitare l'abbandono della montagna bellunese ecco perché le tre frazioni alte con l'impegno del gruppo di azione locale Belluno-Alpina stanno mettendo a punto un piccolo progetto per agevolare la vita di chi ha scelto di rimanere in quota magari anche per attrarre aziende agricole e turisti ora la relazione sarà illustrata il 28 febbraio non metteremo certamente a tacere quanto si fa anche a un livello che non è quello della amministrazione o addirittura della politica ma è un'iniziativa popolare che pure merita attenzione il mio tempo è scaduto quindi con il saluto con l'augurio di una buona giornata sulle frequenze di radio piave belluno in blu e l'invito a seguirci con gli aggiornamenti su facebook vi lascio con l'augurio di una buonissima giornata